ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video per quanto riguarda acquisti fatti da shane o sheen ho fatto un bel po di acquisti ce l'ho tutti sparsi qui mi scuso ma ho dato un po di blush perché sono truccata già da un paio d'ore se sentite il rumore non posso farci niente ho la porta aperta il ventilatore l'ho spento perché negli altri video negli scorsi video si sentiva il rumore del ventilatore quindi l'ho spento così per non darvi fastidio però non posso chiudere la porta perché soffrirei tantissimo non riesco sinceramente quindi spero che questo rumore non vi dia fastidio inizierei con farvi vedere le giacchettine che ho preso da shane ho preso queste giacchettine a un prezzo bassissimo ma mi serviva perché adesso che diciamo ci sono delle festicciole dei compleanni tante cose mi piace anche utilizzare degli abiti abiti scollati però avendo problemi di cervicale avendo problemi che sento freddo subito sulle spalle ho cercato di portarmi avanti e di acquistare queste giacchettine sono fatte così tipo traforate tipo uncinetto sono delle giacchettine chiamate crop top sono ovviamente a maniche corte ovviamente fanno un profumo perché già li ho lavate io quando vi faccio vedere una cosa è già lavata tutto quello di shane perché io prima lo provo è tutto lavato e quindi ho preso questa che è bianca proprio tutta traforata fatta ad uncinetto molto carina specialmente in dei vestitini è molto molto carina i bottoncini sono fatti tipo tipo legno questa è molto molto bella a me piace è fatta così e dietro è semplicissima prezzo bassissimo e mi sta molto bene come questa bianca ho deciso di prenderne una beige questa devo dire che è leggermente più pesante di quella è fatta in questa maniera sempre tutta buccherellata sempre fatta credo ad uncinetto o a maglia che sia è leggermente più lunga di quella bianca la manica è sempre corta vedete ha molto molto bella ed è di questo beige tortora molto molto carina i bottoni sono fatti sempre in tipo stile legno una cosa del genere aspettate vediamo se riesco a farvele vedere queste e ovviamente sono più piccole e ce ne sono di più perché questa è più lunga come giacca sempre modello crop io ho scritto crop top e mi è uscito proprio questo tipo di giacchettine le ho prese pochissime veramente pochissimo come ho preso se non mi sbaglio 4 euro questa felpa l'ho presa solo soltanto per il prezzo perché bella peluciosa questo ovviamente l'ho provata pure però con l'aria condizionata ed è fatta così semplicissima con questo peluche con la scritta love ed è molto molto grande come piace a me bella larga le maniche sono semplici comunque mi sono trovata benissimo anche con questi acquisti ovviamente sono acquisti fatti in diverse tranche non tutte in una volta mi sembra ovvio adesso mi alzo e vado a prendere tutti gli altri allora quello che vi faccio vedere abbe tolgo la giacchettina perché questa non è di shane l'avevo già acquistata questa qui vi faccio vedere questo vestito questo lo trovate anche 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 lo trovate anche indossato perché l'ho messo al diciottesimo di mio nipote lo stile era anni 50 anni 60 e quindi ho voluto prendere questo tutto con le paliette non so se si riesce a capire e poi le frange bellissimo mi è piaciuto tantissimo questo vestito mi stava bene ho avuto la parola di tutti che mi stava bene è molto molto bello salutate clove il vestito è fatto così e vedete a tutte le frange che quando camminavo si muoveva in questa maniera molto molto bello se veramente sono rimasta contentissima di questo vestito bello io gli ho messo la giacchettina di sopra perché eravamo in un posto grande cioè ampio e il locale era fuori quindi avevo paura di sentire freddo perché soffro di cervicale non so se l'ho detto ma comunque soffro di cervicale la parte dietro c'è una cerniera aspettate che lo faccio vedere perché questo non l'ho fatto vedere la parte dietro ha una cerniera che è fatta così comunque ho avuto cioè i complimenti dei tantissimi dove avevo acquistato il vestito vestito bellissimo comunque sono rimasta molto molto contenta poi continuiamo preso delle magliette delle bluse delle camicie una trattante questa bianca perché capita spesso che in diverse camicie che oppure perché di solito mi vedete con le magliette ma quando esco e c'è un evento in qualcosa preferisco una camicia però spesso mi capita che i modellini mi piacciono e tutto ma sono quelle camicie che hanno quel tessuto che tu sudi soltanto a vederli e quindi ho cercato di prendere qualcosa che sia di cotone o che sia di un tessuto proprio traspirante che non aderisse alla mia pelle ho preso questo che abbastanza leggero devo essere sincera fatto con le maniche un pochettino a palloncino questa apertura a v con questo ricamo tipo non so se tipo uncinetto non so come si chiamano queste cose senza bottone senza niente le maniche riportano lo stesso disegno lo stesso decoro e nella parte di dietro è semplicissima a me piace tantissimo il fatto che a questa parte davanti così ed è molto molto bella allora la metterò qui andiamo avanti e vi faccio vedere questa e vi faccio vedere questa che di questo color ruggine questa era scontatissima e quindi l'ho voluta prendere apposta ed è di questo color ruggine sempre scollo a v la manica tagliata così sempre con la svolta molto molto bella ed è abbastanza larga con la parte davanti cotta e la parte di dietro con una specie di godina vi faccio vedere anche la godina dietro vedete a questi spacchetti vediamo se riesco a farvele vedere a questi spacchetti ed è molto carina davanti invece anche una taschina di queste negli altri social ve li farò vedere indossati perché ho capito che molto spesso capita che quando una persona acquista tra le foto che mettono su shane io ho sbagliato io di norma facevo le foto così per quello che vedete invece è giusto fare le foto indossate perché spesso acquisto le cose soltanto quando li vedo indossate e quindi la prossima volta farò così con shane quindi ho preso questa poi no questa non è questa già l'avevo presa no queste le cose che avevo ho stirato oggi vi prendo le altre cose e ve li faccio vedere continuiamo e vi faccio vedere la prima camicia questa è una camicia di questo azzurro carta da zucchero credo che si debba dire mi sbaglio sia in carta da zucchero mi piace molto il modello a queste due tasche proprio sono e vere e proprie tasche all'apertura con i bottoni io l'ho chiusa solo per lasciarla sulla stampella è molto molto bella come camicia bella come si dice non dico seta però quel tessuto leggero che potete indossarlo anche di sera la manica è fatta così lunga normalmente la parte di dietro a queste due pinze che diciamo gli danno quella forma cioè che aderisce bene al corpo diciamo così da per farci capire comunque un bellissimo colore sono molto contenta della presa tutte le misure ve li metterò giù nell'info box perché vi metterò la descrizione tutto un'altra blusa di quello che ho preso questa tipo stile geisha adoro adoro questo stile al colletto alla coreana con i tre bottoncini qui neri semplicissimi questi sono i bottoncini questa è la camicia c'è la blusa molto bella tagliata qui nelle maniche non è proprio tagliata proprio così è leggermente dopo il dopo la spalla molto bella tessuto buono simile a quello però leggermente più teso non so come spiegarlo come tessuto però non è proprio cotone perché giustamente non può essere cotone nemmeno credo non ci ho mai fatto caso andiamo a vedere che tessuto è elastan a poliestere elastan poliestere elasticizzato questa è questa blusa semplicissima con i fiori a me interessava perché io ho una gonna blu con dei fiori e credo di poterlo abbinare questa blusa al di sopra io dico quando indosso questo tipo di bluse o camicie che hanno le maniche così tagliato oppure a canotta preferisco indossare queste tipi di giacchettine poi andiamo avanti e ho preso anche questa che è bellissima addosso è stupenda forse così non vi dice niente proprio ripeto lo trovate negli altri social questa è sempre una camicia così una blusa scusate una blusa aperta sempre a b con il colletto alla coreana e questo ricamo proprio qui sul davanti che riprende anche la manichetta che ha palloncino proprio palloncino palloncino proprio come piace a me io adoro questo stile e la manica vedete come rialza e la manica sbuffo all'interno come la volete chiamare molto molto bella il ricamo è riportato anche qui lavata stirata bella mi piace tantissimo nella parte dietro ovviamente è semplice andiamo avanti ho preso un bel po di cosuccio devo dire poi ho preso questa camicia semplicissima bianca stefania ti mancano le camicie bianche no però di questo tessuto mi mancava e di questo modello soprattutto volevo qualcosa di che fosse leggero che non fosse troppo pesante perché io adoro mettere le magliettine perché nelle magliettine non sudo come in determinate camicie capito comunque il modello è sempre semplicissimo sempre con il colletto sempre con le tasche qui abbiamo le tasche aperte io dopo vedrò se devo mettere le spalline oppure no perché vedete le mie spalle sono in discesa e devo avere almeno le spalle perché sembrava un po dritta comunque la camicie è fatta così il taglio è sempre uguale a quello arancione bruciato il modello è semplicissimo sembra grande sembra lagga ma non lo è questa mi piace di più come tessuto il tessuto mi piace di più andiamo a vedere di che cosa è fatta dice perché non li guardavi prima per passatempo composizione 100 per cento poliester io non lo so che c'è a me piace però la il modello è tutto a me piace e quindi ho preso anche questa lavata e stirata profumata è tutto a posto siamo nel finire ho preso un coprispalle di questi qua semplici sempre con la manica sbuffo l'unica cosa è la manica lunga mi è piaciuto quando l'ho visto e quindi l'ho voluto prendere sempre in queste occasioni che fa freschetto e tutto preferisco indossarli è semplicissimo non ha bottoni non è niente è proprio un coprispalle se dovete cercarlo dovete cercare come coprispalle crop top tipo cose del genere è molto carino è un bianco sporco l'ho provato mi piace e quindi va bene poi l'ultima cosa che vi faccio vedere no la penultima no no ce ne sono altre due stavo scherzando io un altro coprispalle che ho preso è questo ed è a maniche corte il tessuto è leggermente diverso perché quello è unica diciamo non ci sono ricami non c'è niente questo invece il tessuto è leggermente diverso non so se si nota aspettate vi faccio vedere la differenza tra questo e questo non so se si nota la differenza del tessuto di questa l'ho presa con la manica sempre a sbuffo ma ha la manica la manica corta ma con questo ma con questo ha la manica corta ma con questo decoro qui tutto intrecciato molto molto bello devo dire la verità mi piace questo è un modello semplicissimo a manica corta sempre per vestiti eleganti ho anche delle tutine sapete quando avete delle tutine però che non vi piace stare troppo scoperta questa sono l'ideale poi qui ho preso una blusa questo è l'ultimo pacco che mi è arrivato ho preso un questa blusa che sicuramente dovrò mettere le spalline perché il modellino mi piace però tende tende a cadere troppo ed è questa blusa sempre apertura av ha tutta la pressettatura qui sulla spalla la manica è fatta normale tipo a lanterna e finisce con questo intreccio questo intreccio qui però che cosa succede che questo intreccio è leggermente cioè mi sta non lungo cioè dopo i bracciali che di norma è la lunghezza che dovrebbe stare tutte le manette però io sono un tipo che mi piacciono le manette a manica lunga però la sbluso un pochettino e mi piace è fatta così molto molto diciamo vedete tipo la mettete sblusata ed è molto carina molto è semplicissima non ha niente di particolare mi piace tantissimo il colore ditemi se questo colore mi sta bene tipo champagne mi è piaciuto e quindi l'ho voluta prendere però sicuramente dovrò mettere le spalline perché io ho le spalle che scendono poi per la parte finale questo è il fratellino gemello dell'altro quello più scuro ho preso un capello stefani ho preso lo stesso giubbottino che vi ho fatto vedere in un altro haul di shane ho preso proprio il colore chiarissimo l'avevo preso anche bianco ma quello bianco era più corto e molto largo e quindi l'ho rimandato indietro e mi sono tenuta questo che è il colore più chiaro tipo che va sul bianco invece l'altro giubbottino che in precedenza era leggermente più scuro ha sempre la manica così a sbuffo come piace a me ovviamente l'ho indossato per il compleanno di mio marito l'ho messo sopra un vestitino molto elegante quindi ho messo il giubbottino ed è fatto così semplicissimo con tutti gli strappi come quello dell'altra volta ha gli strappi qua comunque mi piace tantissimo il lavaggio di questo giubbotto perché è quello chiaro 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 la parte di dietro è fatta così e vi posso assicurare che la vestibilità di questo giubbotto è fantastica io vi ripeto l'ho messo con un vestito elegante lo potete mettere anche con delle tute con dei vestiti lunghi lo potete mettere con qualsiasi cosa io mi sono trovata benissimo e vi ripeto l'avevo acquistato nel color nel lavaggio un po' più scuro e quindi ho deciso di prendere il lavaggio un po' più chiaro perché quello bianco non mi è piaciuto quindi ho deciso di tenermi questo molto bello le maniche sono sempre a sbuffo a me piace tantissimo la parte dietro non so se ve l'ho fatta vedere questo è il lavaggio ed è fantastico come vestibilità e tutto bene questo è tutto per quanto riguarda questi fatti da Shane per quanto riguarda l'abbigliamento sto aspettando un altro ordine che mi deve arrivare tra un poco e in quell'ordine vi farò vedere le altre cose che ho preso di Shane per quanto riguarda articoli per la casa e tutto il resto non vi faccio tutto un unico video perché mi verrebbe troppo pesante e poi nel caricarlo i video lunghi non li vedete quindi preferisco fare così una cosa bella bella veloce veloce quindi ditemi qual è il vostro pezzo preferito per quanto riguarda questo haul di abbigliamento io credo di ripetermi nelle cose io sono tra il vestitino verde del compleanno e il mio giubbottino preferito cioè mi piace tutto perché ovviamente l'ho scelto io però devo essere sincera il vestitino e il giubbotto sono le cose che io adoro di più in assoluto infatti sono molto molto contenta dei miei acquisti niente che dirvi di più come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao